L'orrore, l'angoscia, il terrore sono parole impressionanti, ma più delle parole il freddo linguaggio delle immagini può dimostrare che La maschera del demonio è veramente un film dalle emozioni straordinarie, è un'istoria di un interesse morboso, dominata da un clima agghiacciante. La morte, ho visto la morte. Respira, ci troviamo di fronte a fenomeni spaventosi. La morte, la morte, la morte. Non sono più tuo padre, il mio sangue non è più il tuo, gli spiriti del male hanno sciolto per sempre questo vincolo e nelle tue vene scorre una linfa maledetta. Il suspense è l'imprevisto di una drammaticissima vicenda in cui una terribile e assurda realtà e un'indicibile fantasia confluiscono in un tutto impressionante che supera ogni immaginazione. Ma è impossibile padre, si muoveva e mi ha anche parlato, prima di fucire. alle volte Satana, con la sua grande malefica potenza, si prende gioco anche della morte. Talaza, con la sua grande manifestazione. Grazie a tutti.